Ho avuto delle sorte che ci vissero tra stasera, per l'ultimo, contro il Gasolini di Colino, per quanto riguarda il campionato per l'ultimo, e è successo tantissime cose durante questo periodo. Nel punto, cosa è successo? Ma no, io non voglio parlare di niente, onestamente. È un momento in cui bisogna stare in silenzio, secondo me. È successa una cosa molto grave, che ha colpito tutti noi, tutte, tutto il nostro mondo, e dobbiamo imparare qualcosa da questo, stare in silenzio, riflettere, e basta. Quindi adesso stiamo giocando, non lo so, forse dal mio punto di vista sarebbe stato meglio fermarsi, perché è troppo grave quello che è successo, e quindi va oltre lo sport, va oltre la palla a volo. Però siamo qua, è andata bene, per me ovviamente se posso tornare qua a Busto, è sempre molto bello adesso, abbiamo avuto un passaggio alle semifinali un po' tra virgolette facilitato, perché sicuramente non era la UIVA più in forma, era la UIVA che giocava senza opposto, e che durante l'anno invece ci ha sempre fatto faticare parecchio, e quindi buon per noi, adesso per un po' di tempo per recuperare, ricaricare le pile, e proprio per questo è il momento. Grazie a tutti.